Che bello manorato! Eh? È tardi! Ho capito che succede! L'atterraggio è infattibile! Oh, che figo! Cos'è andato? Bentornati al Cheek's Peaks! Io sono Cheek X! Guardiamo un minuto di Camp Spinner. Oggi ha perso di nuovo. Prolungando la sua serie di sconfitte ha... Beh, ho perso il conto. Che ne pensi, Miss Fritter? Benvenuti al Rally nella pista dell'aeroporto. Non è una pista normale, quindi siamo qui per dei brividi inaspettati. Beh, non lo vedo! Beh, non lo vedo! Guarda dentro e dover! Sono un bel giorno! Beh, non lo vedo qui! ecco un atterraggio perfetto wow che bel manorato posso che definirlo un disastro sono bravo, ho sorpreso mi vengono le vertigini solo a guardarlo ho avuto la potenza l'ho inventato io stiamo andando veloci adesso riesco a volare c'è qualcosa di strano questo sarà un duro atterraggio che super santo non rimane molto tempo devo guardare le registrazioni qui è C-Kicks e bentornati al C-Peaks è ora di parlare di una veterana delle corse Louise Nash ha avuto dei momenti buoni oggi ma non sono stati sufficienti non è stata la sua gara migliore Smokey, nient'altro da aggiungere? ho visto corse decisamente migliori ma ci sono stati momenti interessanti ed è per quelli che continuiamo a tornare